Buon Natale a tutti, oggi è la giornata di Natale, un giorno fantastico, se avete fatto i bravi avete trovato tantissimi doni sotto l'albero spero per voi che sia così e non che sia l'albero che sia stato vuoto perché avete fatto i cattivi comunque noi siamo i giocatori per caso e oggi c'è la nuova sfida che uscirà tra poco di operazione coi fiocchi cattura un flopper innevato e noi la facciamo immediatamente perché è una sfida bellissima questa, mi è piaciuto un sacco ma prima di tutto iscrivetevi al nostro canale così non perdete le nostre avventure il flopper innevato si trova un po' ovunque, non c'è un punto ben preciso, io l'ho trovato un po' ovunque ma adesso vado qui in questa zona perché so di per certo che lì c'è di sicuro e ci metto poco a trovarlo ma è già successo più di una volta in questi giorni appena arrivo in zona mi butto subito dall'autobus e andiamo in quella direzione che vi ho indicato prima allora la vedete la casetta qua sotto col molo? lì c'è una bellissima canna da pesca che mi aspetta, c'è sempre qua ci sono i punti di pesca, ne ho già visti almeno due allora uno è lì, un altro di fronte a me e un altro a sinistra tre punti di pesca, quindi so già che andrò lì a pescare adesso proviamo a vedere quante volte devo pescare per riuscire a prendere questo flopper c'è sia la canna da pesca che la fiocina, meglio di così non poteva andare adesso prendiamo un motoscafo e dirigiamoci sul primo punto di pesca eccoci qua siamo arrivati, adesso cambio posto così posso pescare proviamo prima con la canna da pesca, vediamo che succede allora, un prelibapesce mi sembra di avervi visto, cos'era? e questo è un flopper rinnevato, guardalo qua, l'ho già trovato cavolo è stata veramente facile questa sfida, è velocissima adesso vediamo cosa succede quando lo mangiamo prendiamolo che bello, ma cosa c'è una sciarpa addosso? non ho ben capito torniamo a riva e vediamo con calma com'è sto flopper rinnevato qua c'è la riva, ok adesso scendiamo e vediamo che succede voglio proprio vedere com'è, vediamolo un po' ha una sciarpa attorno, è un pesce con una sciarpa attorno un pesce bianco, ce l'ho anche in mano, è bellissimo ho pescato un pesce con una sciarpa, ma è veramente bello adesso me lo mangio, vediamo cosa succede proviamo un po' a mangiarlo si è congelato tutto ho i cubetti di ghiaccio ai piedi e scivola riesco ad andare in salita? no, sto scivolando è bellissimo guardate adesso proviamo ad andare in salita e vediamo cosa succede ah, è finito l'effetto peccato però mi è venuto in mente che io ho ancora la fiocina adesso voglio provare a vedere che succede se vado con la fiocina sono curioso di vedere se serve per forza la canna da pesca tra l'altro quella grigia, neanche la blu professionale o se si può fare con la canna da fiocina no, pesce punto zero, quello del teletrasporto bello proviamo a spostarci in un altro punto tanto ne avevo visto che ce n'erano due o tre vediamo qua cosa riusciamo a prendere un pesce, due pesci cos'è? ah, un altro flop rinevato guarda che bello adesso non altro, benissimo proviamo a spostarci ancora se vedete nella minimapa sono sempre nella testa zona non ho cambiato zona volevo vedere quanti ne riesco a prendere allora, un altro eh, guardalo qui, ne ho preso un altro adesso e questo invece è un flopper normale di quelli verdi proviamo a cambiare di nuovo zona ok, vediamo qua cosa c'è è mancato con questo ho fatto veramente schifo questo cos'è? un flopper blu ho preso solo un flopper normalissimo niente di interessante ma ce n'era un altro posto da pescare se ne erano due uno scoprò l'altro questo è un pesce termico ok adesso mi sono spostato ma devo fare veloce mi mangio anche il pesce termico vediamo quella canna da pesca cosa riesco a pescare questa volta un fucile di precisione che non mi interessa assolutamente e voilà, il terzo flopper rinevato adesso andiamo a riva e ce li mangiamo tutti siamo arrivati ce ne siamo ancora sotto l'effetto della tempesta ma fa niente adesso voglio proprio vedere una cosa andiamo in salita e ce li mangiamo vediamo se scivoliamo scivolo, scivolo non riesco a andare su è bellissimo non posso andare su non so l'utilità di questo pesce forse potessi lanciarlo addosso le altre persone e farle scivolare ha senso ma così non tanto adesso ne mangio un altro e ancora scivola è bello l'effetto è carino però non so cosa serva un pesce che posso mangiare e scivolo solo io adesso mi mangio anche l'ultimo almeno finiamo la sfida è bellissimo scivola perfettamente è una cosa incredibile abbiamo visto che in questa zona ci si trovano ben 4 flopper rinnovati e si possono raccogliere sia con la canna da pesca normale che con la fiocina la sfida è finita e buon natale a tutti se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche grazie a tutti